Indovina chi ha dimenticato di fare il dolce per i 17 anni di gnam gnam? Sì, esatto, la sottoscritta. Quindi ecco una torta di compleanno pronta in mezz'ora. In una ciotola metti mascarpone, zucchero a velo e panna. Monta il tutto con le fruste elettriche. Volendo puoi usare anche ingredienti senza lattosio. Metti in frigo mentre tagli le fragole a fettine. Bagna leggermente i biscotti nel latte e anche qui, se necessario, puoi usare ingredienti senza lattosio e senza glutine. Disponili su un vassoio e aggiungi la crema aiutandoti con una sacca poche. A questo punto aggiungi le fragole e le gocce di cioccolato. Fai uno strato di biscotti insuppati, poi crema, fragole e gocce di cioccolato. Termina con i biscotti insuppati nel latte, rivolgendo la parte liscia verso l'alto. Fai dei ciuffetti di crema e decora come preferisci. Io ho usato mirtilli, fragole, cioccolato e menta fresca. Fai riposare due ore in frigo prima di servire. Ed ecco pronta una torta velocissima per festeggiare un compleanno. Nel mio caso i 17 anni del blog. Seguimi per altre ricette facili e veloci.